Buongiorno a tutti, buon giovedì, primo agosto. Manca poco, l'ha instagrammato Lautaro Martinez, proprio ieri il capitano ancora in vacanza alle Bahamas con famiglia, ha messo una sua foto pronta a entrare in campo, meno 16 e tutto questo sarà reale, vacanze finite, calciomercato non ancora, quindi andranno avanti anche le nostre live che vi accompagnano sempre più seguite, anche se stasera dovremmo cercare una connessione diciamo di emergenza perché saremo a Taranto 19.30 per una bellissima diciamo presenza, incontro organizzato dall'Interclub locale, domani ricordo invece a Terlizzi provincia di Bari, il Barzatur che continua e spero di incontrare tanti di voi che siete in zona in Puglia, mi raccomando, per alzare ancora di più il livello come stiamo facendo ragazzi siamo scesi sotto i mille, 9.50 ai 50.000, ognuno di voi se riesce a trovare una persona che si iscrive, non servono di più, siamo tanti, una media con 14-15.000 a video, basta che ognuno di voi ne trovi uno e arriviamo ai 50.000, fate un piccolo regalo al canale, se ci riusciamo prima dell'inizio del campionato sarebbe un'impresa straordinaria e molto scaramantica in vista della stagione che sta per partire, poi vedremo un po' tutto quello che succede, vi ricordo naturalmente non per annoiarvi ma perché serve veramente il vostro aiuto, la nostra petizione, ieri sono arrivate nuove firme importanti, non siamo ancora a 3.000 quindi siamo bassissimi, cercate un doppio clic, il commento, la descrizione, il link in descrizione e nei commenti fissati, stiamo facendo un po' di confusione, per un gesto di civiltà, per sottoporre il problema alle autorità in Francia, in Spagna, si stanno muovendo con una legislazione ad hoc che si cerchi di fare qualcosa anche in Italia per bloccare tutti questi cyberbulli che rovinano la vita di tante persone, per difendere i più deboli che spesso non riescono a reagire, che poi non riescono più a vivere perché subissati dall'odio di questi personaggi che non hanno niente di meglio da fare che nascondersi dietro una testiera e puntare questo o quello per rovinare la vita di quello o di quell'altro in questo gioco veramente al massacro bruttissimo che cerchiamo di stoppare, quindi doppio clic che non costa nulla la nostra petizione e il gruppo Telegram che non potete non avere, scaricate l'app nello store del vostro telefono come Whatsapp gratuito e poi cercate il gruppo Marco Barzaghi Inter, in basso a destra unisciti e via, il gioco è fatto, notizie, anticipazioni ma soprattutto notifiche quando siamo in live, dove, i link, foto, video, le prime pagine dei giornali, informazioni in anteprima, iscrivetevi, basta. Adesso torniamo a noi perché prima cosa su cui volevo intervenire è perché mai, vi chiedo, l'Atalanta dovrebbe vendere Copminers a una Juve che si è buttata su O'Reilly per creare disturbo in un'eventuale anche sostituzione del centrocampista olandese. Adesso si è buttata con convinzione anche su Nico González della Fiorentina che era stato individuato dall'Atalanta da tempo come possibile rinforzo e c'era stata questa offensiva da parte del club di Percassi, subito la Juve e si è buttata sul giocatore per far capire, insomma, di abbassare le pretese su Copminers. Ma allora perché dovrebbero fargli un favore scendere da 60 a 45 con questi disturbi che sono anche qualcosa più di un disturbo? Io onestamente faccio fatica a capirlo. Poi, tra l'altro, sembra che si stia trattando per uno scambio McKennie più soldi per Nico González, un altro scambio tra Juventus e Fiorentina. Questo per l'informazione corretta. Penso che non ci siano commenti ulteriori da fare dopo aver preso a quanto 13 più 5 di bonus Moise Ken, 0 gol nell'ultima stagione, che secondo me è anche da prendere al fantacalcio perché sembra che nell'ultima partita un gol e un assist si stia riprendendo a Firenze, però c'era chi continuava ad attaccare l'Inter e poi vedete quello che succede nella pratica. Passando alle cose che fanno sorridere, vi ricordate le dichiarazioni dell'agente di Bastoni, no? Pochi giorni fa aveva detto che c'erano state offerte in passato del Manchester City, recentemente anche del Real Madrid, che però non spende per i difensori quanto fa per gli attaccanti tra Hendrick e gli ingaggi faraonici, commissioni per Mbappé. Il Mundo Deportivo ha pubblicato quella che sarebbe stata l'offerta per Bastoni, che viene onestamente da ridere, una cifra, come abbiamo messo nel titolo, di poco più di 30 milioni. Di cosa stiamo parlando? Calafiori dopo un'annata ottima, anche un discreto europeo, è stato venduto a 50 milioni complessivamente all'Arsenal. Sentiamo di ciao in trattativa col Newcastle per 40 milioni e mi dici 30 o poco più per Bastoni dopo che ha vinto da protagonista assoluto uno scudetto, il suo secondo. Stiamo scherzando, spero che sia una butade perché veramente valutare così un giocatore inseguito anche in passato da Guardiola che proprio lo apprezzava tantissimo per la sua abilità in impostazione, per i suoi lanci, per la sua anche contemporaneamente bravura difensiva tra i 30 e 40 milioni. Mi sembra veramente una mancanza di rispetto totale. Qualcuno quasi non ci credeva, ma alla fine è quello che ha detto il suo procuratore. Real non offre per i difensori quello che offre per gli attaccanti e lo conferma questa trattativa svelata dal mondo deportivo assolutamente senza senso. Quindi giriamo pagina che è meglio. Ieri incontro in sede con i rappresentanti di Satriano e lo stesso giocatore. L'Inter ha cercato di fargli capire che deve accettare il Brest perché non c'è un'offerta migliore da quella da 6 più bonus recapitata dal club francese con cui ha giocato l'ultima stagione in cui è stato protagonista, titolare in molte partite, soprattutto diciamo da metà campionato in poi decisivo con solo 4 gol ma assist e buone ottime prestazioni. Ancora non c'è un accordo, ancora non è convinto Satriano di andare a giocare in Francia. Avrebbe preferito la Liga, preferirebbe, però quello che ha detto l'Inter l'offerta migliore è questa. Se tu ce ne porti un'altra di uguale dimensioni, lo stesso prezzo che 6 più bonus che ci offre il Brest, siamo disposti ad accettarla, però a prenderla in considerazione, ma il tempo stringe e anche nei tuoi interessi forse è meglio che prendi una decisione e accetti comunque di giocare la Champions League che tu stesso hai conquistato. Ancora non siamo arrivati a un accordo e capite anche le difficoltà che ci sono sul mercato in uscita. Rimanendo al tema attaccanti sul fronte Correa ancora non si muove nulla e questo è un grosso problema e sempre di più credo che la soluzione sia andare a risolvere un contratto da Arabia a Turchia dove al momento hanno disponibilità maggiori. Non arriva nulla, tanto meno dal Como che potrebbe essere un'opzione per anche Marco Arnautovic, non solo per Correa, la ricerca di un attaccante con una certa esperienza. Si è parlato di un avvistamento in riva al lago da parte di Arnautovic, ne hanno scritto anche i giornali Comaschi, ma non credo proprio che fosse correlato a una trattativa di mercato, però potrebbe essere un'idea che nasce e che possa dare anche qualcosa in più al Como. Nel frattempo al Genoa stanno trattando Retechi con la Fiorentina e secondo me, come dicevo già a gennaio, magari ci abbiamo anche azzeccato. In un'operazione Gudmundsson, prendere in considerazione un Arnautovic secondo me non sarebbe poi così un'idea strampalata per un Genoa che secondo me ha bisogno di un attaccante della sua stazza, della sua bravura anche alle gare con la squadra e che se gioca con continuità ha dalla sua una serie di gol importanti, comunque da doppia cifra come ha fatto col Bologna due stagioni fa, poi chiaramente giocando da comprimario con i due infortuni che ha avuto si è fermato sotto con l'Inter, però con continuità ai minuti secondo me può fare ancora ancora bene. Vedremo se oltre al Trabzonspor si concretizza qualcosa di più per poi provare l'operazione Gudmundsson che abbiamo detto è il giocatore da tempo prescelto che sta aspettando l'Inter che però ha questo problema del processo che si potrebbe aggirare con un prestito molto oneroso di una decina di milioni, un riscatto condizionato alle sue presenze nella prossima stagione, però prima il mercato in uscita, prima piazzare intanto Satriano, poi Correa e infine vedere se si trova una sistemazione a Arnautovic. Cercando anche qualche alternativa, potrebbe tornare di moda anche il nome del Neymar norvegese Antonio Musa che oggi è in copertina su tutto sport come obiettivo della Juve se non dovesse arrivare a Adeiemi o Galeno o Francisco Conceisao o Nico Gonzalez che sembra l'idea dell'ultimo momento da parte di Giuntoli. Attenzione al norvegese erede di Neymar che ha stupito tutti per precocità, per dribbling, non è un vero e proprio attaccante, è un esterno d'attacco molto qualitativo con dribbling, salta all'uomo, potrebbe essere molto interessante in prospettiva futura. L'Inter lo segue da tanti anni, sembrava dovesse andare in Inghilterra ma il Brentford poi ha stoppato la trattativa non convinto di chiuderla, valutazione sui 20 milioni, quindi anche meno, potrebbe essere un bel colpo in prospettiva futura. Prima di andare ad affrontare l'argomento però della difesa, del braccetto, di quello che manca, intanto vi dico di stare tranquilli, adesso sembra che stiano comprando chissà che cosa. Ok, il Milan si sta muovendo ma l'avevamo detto, no? Dopo Morata sarebbero arrivati altri colpi per rinforzare la squadra che ridendo e scherzando però dopo il City stanotte ha battuto anche il Real Madrid quindi attenzione al Milan, Pavlovich, Emerson Royal, un attaccante Abram forse dalla Roma in vendita per una ventina di milioni, a me non è mai dispiaciuto, ultima stagione forse ancora non pronto dopo l'infortunio, non ha fatto bene. Vediamo un po' che si muove però volevo, siccome me lo chiedete in tanti, farvi un riepilogo di quella che sarà la nuova formula della Champions. Intanto il sorteggio che sarà tra il 29 e il 30 di agosto a Monte Carlo come sempre, poi riepiloghiamo questa formula nuova con 36 squadre. Un unico giro nel stile campionato che sarà diviso in quattro fasce e l'Inter sarà in prima. Stabilite dal ranking UEFA, unica eccezione reale che detiene il trofeo sarà la prima della prima fascia. Da nove squadre con i club che giocheranno dunque otto partite, quattro in casa e quattro fuori per determinare la classifica finale che darà accesso dopo gli spareggi agli ottavi di finale. A questa fase accederanno direttamente le prime otto squadre classificate, quelle dal nono al ventiquattresimo posto invece andranno agli spareggi in due turni, le altre saranno eliminate da tutte le coppe, insomma per il murigno. Non ci saranno poi gli squali falliti della Champions con l'Europa League che avrà la stessa formula. Quindi quattro partite in casa, quattro fuori, sorteggi e ogni squadra affronterà due degli altri gruppi. Quindi una formula in stile campionato che si saprà poi a fine agosto e già a metà settembre, le date il 17 settembre, si terminerà invece il 29 gennaio, quindi molto più lunga, la prima fase abbiamo detto 30% di partite in più, poi finalissima quest'anno, cioè l'anno prossimo sarà il 31 maggio all'Allianz di Monaco, stadio che conosciamo bene. Continuano a insistere su questa, diciamo, disparità, differenza di visione da parte di Inzaghi che vorrebbe Riccardo Rodriguez come se ci fosse una spaccatura anche su quel fronte, no? Con Inzaghi che chiede a Riccardo Rodriguez, convinto della sua esperienza, l'ex capitano del Torino, vice capitano della Svizzera, titolare agli europei che abbiamo visto comunque autore di prestazioni sicuramente convincenti, c'è questa favola di Octree che non vorrebbe over 30 e l'abbiamo spiegata che non è in realtà una cosa del genere, un'indicazione di massima, poi tutto deve essere considerato in base alle alternative, ai costi, alle spese, a quello che vai anche eventualmente a prendere come alternativa, no? A 30 passa milioni per Ermoso, una riserva, un milione e mezzo netto che sono neanche tre lordi per Riccardo Rodriguez per sostituire momentaneamente Buchanan secondo me è un qualcosa da prendere in considerazione perché poi ti rimane quel tesoretto che si sta mettendo da parte per la punta che secondo me la seconda punta è quello più necessario per fare un ulteriore salto di qualità, cambiare Arnautovic che però non è facile piazzarlo, lo sappiamo, però manca una seconda punta rapida e veloce che possa dare un cambio di marcia anche subentrando dalla panchina, un'alternativa a Turam insieme a Taremi che può fare anche la seconda punta come mi ha scritto qualcuno ma non è proprio una seconda punta che entra e ti spacca la gara, speriamo che lo sia ma stiamo parlando di un giocatore per esempio alla Depay quando è entrato contro l'Inter al Metropolitano di Madrid e ha risolto l'ottavo di finale purtroppo di Champions, un giocatore come Adeyemi velocissimo che quando gli avversari sono stanchi entra e credo che faccia il suo, non mi dispiacerebbe anche, ne abbiamo parlato ieri, di Berardi perché ha la qualità, la velocità, deve recuperare sì dal suo infortunio ma è un attaccante anche se non proprio una punta che subentrando può fare la differenza se ritroverà una condizione si potrebbe prendere in prestito, stesso discorso abbiamo fatto prima per Nusa, non parliamo di Gudmundson che sarebbe perfetto se non avesse quel problema extra calcio e l'Oriente sembra che Mourinho stia spingendo, lo stia proprio soffiando anche alla Lazio che lo sta trattando bisogna fare un piccolo, secondo me intervento lì perché se no si fa tanta fatica e serve qualcosa di più soprattutto in campo internazionale, l'abbiamo visto, anche per mettere in zaghe una turnazione maggiore è vero che Taremi è veloce, agile, si abbassa, parte anche da lontano, può aiutare tantissimo la squadra ma se prendi anche uno molto rapido e veloce, completi al meglio e ti dà anche un po' quello che mancherà dal momento della cessione di Sanchez quindi vediamo un po' che cosa può riservare il mercato con poi la pista chiesa che sembra sempre più interessante si accrescono i particolari ieri abbiamo detto di questo retroscena svelato dal collega Sabatini del Whatsapp di Marotta a Federico Chiesa in occasione del suo matrimonio che non era solo di congratulazioni ma che avrebbe piacevolmente, diciamo, colpito il figlio d'arte che non sta trovando una sistemazione che la Juve vuole cedere a tutti i costi per non perderla a zero ma che potrebbe anche, se non dovesse trovare la squadra giusta in questa sessione di mercato cosa che io penso sempre possibile però potrebbe anche aspettare e diventare un altro colpo a zero specialità della casa nomi invece per il braccetto mancino a parte Rodriguez e non c'è questa spaccatura, questa contrapposizione abbiamo detto tra Inzaghi e la società ieri è venuto fuori da tutto sport Gazi Orosky il centrale campione del mondo Under-19 sì, campione d'Europa Under-19 con la Spagna del Valencia molto interessante, che piace e non potrebbe essere altrimenti gran fisico, mancino che può fare anche il terzino sinistro valutazione però alta così come quella di Renan così come credo anche quella di Zezé che era venuto fuori come possibile anche trattativa col Nantes in cui inserire Radu a cui bisogna trovare anche una sistemazione non facile per i due milioni quasi di ingaggio netto che prende il portiere rumeno Gazi Orosky sarebbe un colpo in prospettiva perfetto per la proprietà tra l'altro ha ceduto l'80% del Can società di seconda lega francese a Mbappé o a qualcuno per Mbappé adesso poi vedremo meglio tutti questi titoli su Ning che potrebbe acquistare la Portimonense in Portogallo anche ci interessano relativamente non dimentichiamo Andrea Carboni del Monza com'è possibile anche Braccetto Mancino un Mr. X che ancora non è uscito l'abbiamo detto da tempo stiamo sempre sul chi va là senza dimenticarci Scalvini nel frattempo nel frattempo il gruppo ormai si sta completando e aspettiamo delle indicazioni importanti per l'amichevole di venerdì a Pisa domani in cui dovrebbe iniziare a vedersi Cialanoglu lo stesso Arnautovic Sommer che inizierà la difesa della porta dalla comunque concorrenza di un Pepo Martinez che è stato acquistato per il futuro che con umiltà ha accettato di fare il secondo portiere si stanno allenando intensamente con doppi allenamenti gli ultimi arrivati Kamatè proprio per questo in attesa del ritorno di Dunfries abbiamo detto 3-4 tornano francesi Turan Pavard e poi olandesi Dunfries ed Evrai e si attende anche il rientro di Carboni che arriverà nei prossimi giorni prima di Lautaro che ha atteso l'otto Carboni che firmerà un rinnovo di un altro anno con l'Inter quindi scadenza diventerà non più 2028 ma 2029 e poi andrà in prestito oneroso di un milione al Marsiglia con De Zerbi che ha garantito crescita minuti e il club francese si terrà un riscatto fissato a 36 milioni con l'Inter che potrà contro riscattare a 40 quindi tutto poi da vedere la prossima stagione Kamatè mi piacerebbe venisse confermato non è stato così per Agumet aspettiamo solo l'ufficializzazione per la sua accessione al Siviglia Fontanarosa lo stesso ha fatto molto bene e potrebbe farlo anche domani anche se crescendo bastoni in minutaggio penso che vedremo una formazione titolare sempre più simile a quella che comincerà la stagione aspettandoci anche ulteriori buone indicazioni da Taremi dopo i 5 gol in 3 partite un Bissek straripante tra l'altro non solo bastoni ma anche Bissek ha ricevuto un sacco di offerte da Premier e anche dalla Bundesliga sui 12 milioni sembra che i giocatori dell'Inter valgano veramente così poco l'Inter sotto i 40 neanche si siede al tavolo giustamente e poi farà il suo andiamo a leggere adesso un po' di vostri messaggi 12 milioni per Bissek forse fa ancora più ridere di 30 milioni di bastoni ma siamo più o meno sullo stesso livello leggiamo un po' di vostri messaggi che è meglio se no poi ci perdiamo il filo allora su chiesa ve l'ho detto ragazzi il discorso è se veramente non dovesse essere ceduto potrebbe veramente diventare un'ipotesi concreta ma rimaniamo sempre alla finestra a vedere quello che accadrà non sarebbe male dice Raffaele prende 21 like l'idea Berardi e poi prenderlo sarebbe l'unico modo per non prendere gol da lui che segna sempre all'Inter però adesso essendo al Sassuolo momentaneamente credo che non si veda più non ci sia questa possibilità a meno per la prossima stagione Leopoldo molto tranchant non serve nessun chiesa ma serve tenere il gruppo compatto con umiltà e concentrazione diverso il parere di Claudio che dice vedete come c'è anche discordanza Federico chiesa a zero per la prossima stagione sarebbe un colpo fantastico perché poi vai a bloccare una cessione adesso alla Juve gli crei un problema acquistato a 50 milioni lo perdi a zero capite che diventa molto goloso così come dice su strada per Berardi dice colpaccio incredibile fortissimo porta tanti golli assist da prendere assolutamente c'è l'incognita infortunio grave che ha subito poi salutiamo la Paola e Tony naturalmente ancora gasati per la live dell'altra sera e fa piacere darvi sempre qualità maggiore idee nuove la barza tv che cresce mi raccomando però aiutateci anche voi con qualche like iscrizione al canale condividendo anche i video il signore Anthony forza inter sempre e vamos tanto se tieni un giocatore in una squadra che è un allenatore che non ti fa giocare perché dà spazio ai giocatori che conosce per la loro qualità io se fossi Carboni direi di sì per andare in un'altra squadra e non demotivarmi ma io su questo sapete che non sono d'accordo Carboni secondo me andava tenuto va tenuto e fatto giocare nell'Inter se no non si saprà mai e non crescerà mai a livello totale e poi magari veramente già da questa Coppa America con i campioni del mondo ha fatto un'ulteriore crescita che il sole splenda su tutti i tifosi corretti di ogni colore di maglia Chef Joe ottimismo e spettacolo ecco che cosa cerco per la prossima stagione un po' di positività Joseph Mega sempre più vicino all'esordio in campionato all'inizio ufficiale della stagione sono tra i pochi a vedere favorevolmente un eventuale arrivo di Berardi capisco le perplessità visto il grave infortunio subito ma c'è anche da dire che se rimesso in forma e sotto le sapienti mani di Nzaghi potrebbe essere proprio il tipo di attaccante di cui abbiamo bisogno veloce nel dribbling con quel sinistro saltando l'uomo detto ciò affidiamoci come sempre alla Mab Marotta Ausilio Bacin con la suggestione chiesa sullo sfondo Fentanil propone Lukman che però costa ancora di più e vediamo l'Atalanta che non vuole assolutamente indebolirsi Kozman invece eviterebbe Berardi secondo me dice ci vuole una punta vera alternativa ai titolari Taremi un grande upgrade ma serve un altro che può fare il titolare per far riposare all'occorrenza Lautaro Turam e sono d'accordo anche Tony intrigato da Berardi mi intriga parecchio per il Mr. X ho piena fiducia alla dirigenza la stessa vale per Carboni che se crackerà con l'OM potremmo riprendercelo con 4 milioni già presi anche Franco Volli speciali edizione Scudetto Sivlef dice io Berardi me lo porto a casa con una gamba più corta dell'altra alla Cazzim e si riprenderà sicuramente uno che si esalta nelle partite importanti e ci sta poi lo potresti prendere come abbiamo detto ieri in prestito quindi senza spendere nulla a parte l'ingaggio e poi non credo che sarà un problema trovare un accordo col Sassuolo Bruno Nerazzurro invece prenderebbe l'Oriente che salta l'uomo veloce a un buon tiro ma Murigno sta provando in tutti i modi a portarlo al Fenerbace saluti a tutti Maurizio Bosco Paolo sono d'accordo su Berardi mi piace Gudmundson pericoloso il processo l'Oriente magari gli diamo Correa in cambio non so se andrebbe in Serie B ma per fare ma a parte fare lo sgarbo alla Juve per quale motivo si dovrebbe prendere Chiesa ma se lo prendi a zero per fare un altro colpo in prospettiva direi molto goloso e poi per provare a metterlo a tutta fascia secondo me Marco Bond dice l'Oriente spero non sia solo nella tua testa ma anche sull'agenda di ausilio giovane rapido e con gol nei piedi speriamo si possa riprendere dall'ultima stagione bellissimo lo sfondo grazie mi fa piacere che anche queste diciamo novità momentanee vi piacciano temporane e rinnovo l'appuntamento stasera a Taranto e domani sera a Terlizzi andiamo a un'ultima rassegna stampa con i giornali in edicola questa mattina gazzetta dello sport in copertina ci sono le parole di Leao che diventerà papà di due gemelli divento papà e cambio vincerò Nico Gonzales la Juve c'è poi in attesa di Jacobs alle olimpiadi complimenti alle medaglie italiane che crescono e per quanto riguarda l'Inter le alternative che chiedono spazio Zilinski Taremi e lo stesso Frattesi c'è posto per noi dicono ad Inzaghi mentre Satriano ancora dubbi sulla sua accessione al Brest vediamo se riusciamo a farla